Andrea Alvister, mi seguo di preparazione, aveva chiesto attenzione alla fase difensiva. Sono più di due anni che non subivate due reti allo Stadium. Trovi che ci sia qualcosa da dire su questo aspetto? È stata anche una gara decisa da molti episodi. Sì, gara decisa da episodi. Una buona gara al primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo iniziato non benissimo, abbiamo preso questi due gol e poi la gara si è complicata. La Lazio è una squadra molto solida, molto fisica, molto brava nelle ripartenze. Abbiamo anche rischiato a volte qualche contropiede in più. Poi negli ultimi minuti c'è stato un po' di caos totale, ma credo che alla fine se il risultato è andato così è perché non abbiamo la forza di cambiarlo. Andrea, in momenti particolari...